Un'iniziativa molto interessante, promossa dall'ARF Spettacoli, che organizza i concorsi di bellezza, Miss Reginetta d'Italia, Miss Stelle dello Stretto e Ragazza e Ragazzo dell'Anno. Un corso intensivo di make-up, portamento e fotogenia, che si è svolto alla scuola di ballo Fly Dance di Barcellona Pozzo di Gotto. Un modo per promuovere la bellezza del nostro territorio, con consigli utili sull'uso e la scelta dei cosmetici, sull'abbigliamento e indossare, su come proporsi in passerella o davanti a un obiettivo. La make-up artist e consulente d'immagine Giusy Marcellini e il fotografo aretino Angelo Bianconi hanno dialogato con le giovanissime aspiranti modelle, che hanno seguito con interesse la lezione dei due tutor dei concorsi. L'importanza del make-up. Oggi abbiamo fatto un corso con le ragazze e abbiamo spiegato l'importanza del make-up, del portamento, dell'immagine, della fotogenia, insieme al nostro Angelo Bianconi, che con noi, per questo servizio, per far sì che le ragazze sappiano che non basta soltanto la bellezza, ma è importante anche sapersi muovere, sapersi districare in quello che è il mondo della bellezza e dello spettacolo. Ovviamente io aggiungo che insieme a queste due cose che ha detto lei ci vuole il sorriso, il sorriso va saputo trasmettere alla gente che ti guarda, quindi devi essere libera e vuota dentro e sorridere sempre e sempre, il pubblico vuole il sorriso. È stato solo il primo appuntamento del 2018, ora le modelle metteranno alla prova quello che hanno imparato nei prossimi eventi del 3 marzo all'Ido Belvedere di Oliveri e dell'11 marzo all'Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si svolgeranno le selezioni dei concorsi Ragazze e Ragazzo dell'Anno e Miss Reginetta d'Italia.